Ok, ecco com'è andata Quest'anno per festeggiare Capodanno abbiamo deciso di andare a Selvino tre giorni Dal 31 al 2 a casa di Riccardo Tutti tamponati la mattina del 31 dicembre siamo arrivati E nonostante ci fossimo già stati d'estate Non ricordavo ci fossero così tanti tornanti E diciamo che soffro abbastanza la macchina E come si può vedere da questa foto ero cadaverico E sembravo più di là che di qua E come si può vedere da questa foto ero cadavera E come si può vedere da questa foto ero cadavera and then you caught my eye giving me the feeling of a light and then you caught my eye oh 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 Oh, 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 oh. Nel pomeriggio siamo ritornati in paese per pattinare al centro sportivo e per alcuni di noi era la prima volta però vabbè dopo qualche caduta ci abbiamo preso un po' tutti la mano Nel pomeriggio è un po' tutti i nostri All I want to be, all I ever want to be Is somebody to you All I want to be, all I ever want to be Is somebody to you Everybody's trying to be a billionaire But every time I look at you I just don't care Cause all I want to be, all I ever want to be Is somebody to you And it's a good one I like what the best one Grazie a tutti C'era da aspettarselo ma dopo aver passato la notte in bianco e aver dormito giusto qualche manciata di ore L'uno non abbiamo fatto praticamente niente se non dormire e giocare a Monopoli Eri, Eri, Eri Eri, Eri 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 La mattina del 2 abbiamo sistemato e ripulito la casa e dopo la caccia di Pepe di Teo che tutto sommato non era nemmeno poi così male abbiamo fatto l'ultima partita da Bellone La verità è che in questi tre giorni di convivenza passati insieme a ridere e scherzare non sono mancati i momenti in cui abbiamo scazzato come è normale che sia soprattutto quando viene azzerato a tabellone oppure quando qualcuno ti conquista la Kamchatka a risico però allo scattare della mezzanotte di Capodanno tutti abbracciati sotto le stelle ho ripercorso l'anno appena passato ho capito che alla fine viviamo di ricordi di momenti attimi di un anno non ricordiamo tutti 365 giorni ma ricordiamo le emozioni, le esperienze le persone con cui le condividiamo e condividere momenti proprio come questi con qualcuno è fondamentale per poi riderci su quando fra qualche anno ci ripenseremo grazie a tutti Grazie per la visione!